good morning youtubers video che cercherò di mantenere piuttosto breve che toccherà due argomenti l'arrivo del primo easter egg di battlefield 2042 e l'inizio delle discussioni relative al prossimo battlefield per quanto riguarda l'easter egg ora in diverse mappe sponerà a inizio game una cassa in diverse posizioni appunto di queste mappe io per esempio l'ho trovata su glesidera percorrendo fino alla fine il ponte andando verso i grettacieli di e2 su calidoscopio se ne trova una tra d1 ed e1 suo abbandono si trova sulla flag d1 quindi questi sono soltanto degli esempi ma sono sicuro che sponerà anche in altre mappe e in altre posizioni è una cassa che ovviamente vale per tutti non è che se uno la vede e gli altri poi non possono interagire con essa e comunque non è detto al cento per cento che esponi nelle mappe magari dovete fare qualche tentativo di entrare uscire nelle mappe per cercarla se comunque l'avete trovata anche voi potete scrivere qui sotto dove di preciso l'avete trovata così potete anche aiutare gli altri bene avvicinandosi a questa cassa vedremo che suona e che sopra un simbolo a me è bastato accucciarmi vicino alla cassa per ricevere una player card mentre altri hanno dovuto sparargli o accoltellarla la player card che si riceve probabilmente sarà l'inizio dell'easter egg legato a battlefield 2042 e riporta una descrizione che state vedendo su schermo e che potrebbe essere collegata con la prossima mappa in uscita con la season 2 passiamo al secondo argomento e parliamo di marcos leto e del suo nuovo studio in canada che si occupa come sapete di battlefield perché nell'ultima settimana ha iniziato a fare delle domande alla community su twitter che hanno raggiunto subito un buon numero di risposte la prima domanda che ha posto è arrivata al 12 di questo mese ed è stata quale variante del tema di battlefield avete preferito nel corso degli anni quindi qualcosa legato alle musiche della saga io sono rimasto ecco da questo punto di vista le mie preferenze sono tra battlefield 3 e battlefield 4 anche se comunque battlefield 1 battlefield 5 avevano delle ottime colonne sonore però ecco la variante del tema principale di battlefield che mi è piaciuta di più è quella di battlefield 3 e battlefield 4 e quella del 2042 invece non l'apprezzo granché perché ha uno stile semplicemente che personalmente non gradisco la seconda domanda che è stata posta invece dice così ok vi ho chiesto della musica prima adesso vorrei sapere qual è il vostro titolo preferito per stile e tono grintoso eroico divertente tutte le vostre risposte sono state fantastiche grazie appunto per aver risposto questa qui è una domanda già più specifica perché delineare il tono e lo stile di un battlefield è molto molto importante perché può decretare anche solo questo il successo o meno di un titolo della saga a prescindere proprio completamente dalla costruzione tecnica di quel titolo e cioè un titolo può essere tecnicamente molto buono ma non incontrare comunque il favore del pubblico ed è questo il caso di hardline praticamente privo di difetti tecnici e tecnicamente solido sotto tantissimi aspetti compreso le auto delle mappe e gunplay però non è piaciuto per il discorso guardie ladri sono polizie criminali pur essendo comunque uno spin off ora non so voi ma decidere il tono di un gioco penso sia qualcosa che riguarda proprio la fase di progettazione preliminare in un qualche modo mi allontana un poco dall'idea di un bel company 3 perché se si stesse pensando di riportare in auge la saga di bel company il tono e lo stile del gioco sarebbe già in gran parte delineato dai capitoli precedenti veniamo poi all'ultima domanda amo la distruzione che ho provato su battlefield nel corso degli anni e come impatta minuto per minuto nelle scelte nelle decisioni da prendere vi piace la distraction per l'evoluzione del design inteso ovviamente della mappa oppure vi piace per il puro spettacolo anche qui torna al discorso di prima se si stesse pensando ad un bel company 3 l'impatto della distraction sulla mappa dovrebbe essere molto forte seguendo insomma un percorso che è già stato tracciato con bad company 2 in ogni caso anche qui chiede sostanzialmente se si preferisce una distruzione funzionale al gameplay o una non funzionale ma puramente spettacolare e direi che innanzitutto una cosa non dovrebbe per forza di cosa escludere anche l'altra però sinceramente tra le due battlefield dovrebbe distinguersi per avere una distruzione funzionale al gameplay prima ancora che per puro spettacolo bene queste sono state le prime tre domande poste da letto finora però ecco magari andrà avanti a farne ancora e se voi siete interessati a rispondere in prima persona potete farlo sul suo profilo di twitter per chi non l'avesse visto appuntamento alle 17 di lunedì per un developer update sul canale ufficiale di battlefield non ho idea ancora di che cosa si parlerà ma probabilmente sarà sempre il futuro del titolo magari le prossime cose che verranno modificate o forse ancora arriverà qualche informazione sulla season 2 direi che possiamo finire qua per oggi detto questo noi ci vediamo al prossimo video ciao